Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Nell'ultimo video di ieri abbiamo aperto la nostra doll, abbiamo trovato il cappellino. Quindi oggi è il 2 dicembre e andiamo ad aprire la seconda casellina del nostro calendario d'avvento. Cosa troveremo? Uh, la bottle! Quindi la nostra bottiglietta per andare a dare da bere alla nostra LOL. Che carina! È nera e fucsia, come potete vedere, e come dicevo nell'altro video, se le diamo da bere lei piange. Perché può solo piangere? Per cui questa è la nostra sorpresina di oggi, speravo di trovare un vestitino in realtà per poterla iniziare a vestire, ma vabbè, sarà per domani. Per cui io vi mando un bacio e al prossimo video. Ciao!